La veneranda fabbrica del Duomo, l'ente predisposto al restauro della cattedrale milanese, donerà alla città 70 mini appartamenti per gli studenti che scelgono di studiare nelle università di Milano. Lo ha annunciato il rettore dello Iulm, Mario Negri, in apertura dell'anno accademico. La veneranda fabbrica del Duomo ha un patrimonio immobiliare tra cui c'è un edificio di sette piani sulla Darsena, in via Gorizia, che verrà attrezzato per le esigenze degli studenti che scelgono Milano per studiare e che hanno bisogno di servizi e non solo di dormire. In programma ci sono da realizzare lavori importanti ed è per questo che gli spazi saranno pronti tra due anni. Gli appartamenti ospiteranno giovani che studiano in tutte le università milanesi. Lo stabile di via Gorizia 7 potrebbe essere messo a disposizione in particolare dell'Università Iulm per ricavarne degli appartamenti per studenti dietro un pagamento di un cannone di affitto da parte dell'Ateneo. Diventerebbe una vera e propria residenza universitaria con circa 100 posti letto. Nel suo discorso di apertura dell'anno accademico, il rettore dell'Uilm, Mario Negri, ha sottolineato la necessità di avere in città residenze per gli studenti con contratti chiari e a prezzi accessibili.